Parallelamente alla guerra sanguinosa che si sta combattendo sul fronte ucraino, ce n'è un'altra che sta generando sempre più tensioni fra Russia e Occidente. Mi riferisco ragazzi al conflitto che si sta consumando sul lato economico e finanziario, tra confischie, ritorsioni e minacce. Solo pochi giorni fa, un tribunale russo ha congelato i beni di Dochi Bank, Commerce Bank e Unicredit per un totale di un miliardo di euro. Ma cosa si cela dietro le minacce del Cremlino? Secondo cui ci saranno conseguenze catastrofiche se l'Occidente dovesse confiscare gli asset russi? Beh, tutto è iniziato con le oltre mille sanzioni che abbiamo imposto alla Russia, in seguito all'invasione dell'Ucraina. Queste hanno colpito diversi settori, tra cui quello petrolifero, che ha reso più difficile al Cremlino vendere il suo greggio sul mercato internazionale. Hanno colpito le banche, che sono state escluse dal sistema internazionale di pagamenti SWIFT. Inoltre hanno punito il settore tecnologico, con restrizioni all'esportazione di semiconduttori, telecomunicazioni, laser, sensori, avionica e tecnologie marittime. Per il momento la loro efficacia è stata un buco nell'acqua, in quanto l'economia russa tira alla grande, e le ultime stime del Fondo Monetario sono sorprendenti. Il PIL russo nel 2024 crescerà del 3.2%, battendo così gli USA e le principali economie europee. Un argomento che ha innescato crescente tensione negli ultimi mesi riguarda la confisca dei beni russi congelati, che potrebbero essere concessi a Kiev per resistere nella guerra di logoramento. Questi beni altro non sono che le riserve di valuta estera della Russia, che sono state bloccate dagli States e dall'UE, e che attualmente si troverebbero in gran parte in Belgio. Ammontano a circa 300 miliardi di dollari, e l'Occidente sta cercando urgentemente di trovare una soluzione per utilizzare i profitti generati da questi asset per finanziare l'invio di armamenti in Ucraina. I 300 miliardi sono investiti in vari strumenti finanziari, tra cui le obbligazioni governative. Tuttavia, l'idea che i succosi profitti possano finire nelle mani del suo peggior nemico sta mandando su tutte le furie Putin, ragione per cui ha avviato la guerra di ritorsioni, colpendo le banche dell'Occidente. E' strano da pensare, ma le banche dell'UE sono ancora operative nel paese, nonostante siano trascorsi più di due anni dall'inizio del conflitto. Il motivo che le tiene ancorate alla madrepatria sono i soldi. Infatti i loro guadagni stanno facendo salti di gioia. Secondo il rapporto di Bloomberg, le banche europee, rimaste in Russia, hanno triplicato i loro profitti da quando è iniziato il conflitto. Ad esempio, la filiale russa della Raiffeisen Bank International ha visto i suoi profitti più che triplicare, mentre quelli di Intesa San Paolo sono aumentati di circa 20 volte. Infatti Intesa, lo scorso anno ha pagato 27 milioni di euro di tasse al Cremlino, su 138 milioni di euro di profitti. Invece nel 2021 ha pagato 2 milioni di euro di tasse, su 7 milioni di profitti. E' brutto da dire, ma le nostre banche stanno finanziando indirettamente i militari russi. Le 7 maggiori banche europee ancora operative nel paese hanno pagato al fisco di Mosca l'equivalente di 800 milioni di euro in tasse nel 2023. Comunque, se l'economia russa ha retto così bene allo tsunami di sanzioni, è grazie a una serie di misure intraprese dal governo. L'aumento ingente della spesa pubblica, i prestiti a tassi sussidiati dallo Stato e l'aumento della spesa militare hanno incentivato i consumatori russi a spendere e richiedere prestiti, arricchendo così le banche occidentali. A loro conviene rimanere lì, perché i tassi interesse sono arrivati al 16%, quindi guadagnano di più sui prestiti che erogano. Questa rappresentazione visiva ci offre una chiara visione di quanto stia accadendo. I punti bianchi rappresentano i profitti di alcune banche europee in Russia nel 2021, mentre quelli rossi mostrano l'incremento dei guadagni nel 2023. In alcuni istituti possiamo notare un balzo davvero notevole. Se da una parte questa è una buona cosa per le loro tasche, dall'altro lato c'è un incubo che li tormenta di notte. Hanno miliardi di euro di asset imprigionati in una nazione da cui sarà difficile sfuggire, considerando l'escalation economica in corso. Senza l'approvazione del Cremlino non possono trasferire nulla oltre confine. Inoltre il Cremlino ha avvertito le banche delle conseguenze catastrofiche se procedessero con i piani per confiscare gli asset russi detenuti in Belgio. Putin non è stupido e sta giocando con le ritorsioni per evitare che il nemico ottenga un vantaggio militare grazie ai suoi soldi. Per questo il tribunale di Mosca ha congelato i beni di Docibank, Comerk Bank e Unicredit per un totale di un miliardo di euro, come parte di una causa legale legata alla costruzione di un impianto di gas. Queste banche erano tra i garanti di un contratto per la costruzione di un impianto da parte della multinazionale Renaissance Heavy Industries. Tuttavia il progetto è stato annullato a causa delle sanzioni occidentali e così le banche hanno deciso di ritirare le loro garanzie. Quindi il congelamento dei loro beni è un modo per cercare di recuperare i costi del progetto annullato. Questa mossa però è preoccupante perché conferma i peggiori timori dell'Occidente. Se noi confiscassimo i 300 miliardi di asset russi, ci saranno pesanti ritorsioni per non parlare delle conseguenze economiche che potrebbero impattare le nostre economie. Ora vi spiego cosa intendo. Se guardiamo alla ripartizione delle riserve di valuta estera detenute dalle banche centrali, notiamo una dominanza assoluta delle valute occidentali. Il dollaro rappresenta quasi il 60%, mentre l'euro circa il 20%. Se teniamo conto delle tre principali valute, ovvero dollaro, euro e yen, dobbiamo sapere che insieme rappresentano il 90% di tutte le riserve mondiali. Questo riflette il loro ruolo dominante nel sistema finanziario globale. Se i leader dell'Occidente decidessero di confiscare i 300 miliardi appartenenti al Cremlino, aumenterebbe la percezione del rischio associato all'investimento in valute occidentali. Questo potrebbe portare a una fuga di capitali dalle valute dominanti, causando quindi un depreciamento delle stesse e un aumento dei tassi di interesse. In aggiunta, la confisca degli asset russi può spaventare le banche centrali e avere un impatto significativo sul mercato dei bond. I bond sono essenzialmente prestiti che le aziende o i governi emettono per raccogliere capitali. Dunque, queste incertezze non piacciono a giganti come la Cina, che nel primo trimestre del 2024 ha venduto un totale di 53.3 miliardi di dollari di titoli del tesoro. Questo è un segno del crescente allontanamento del paese dalle attività denominate in dollari. La vendita di questi titoli da parte della Cina può avere un impatto significativo sui mercati dei bond. Quando un grande detentore come Pechino inizia a vendere, aumenta l'offerta di quei bond sul mercato. Ma se la domanda rimane costante, un aumento dell'offerta può far diminuire i prezzi dei bond e aumentare i rendimenti. Questo significa che per i governi occidentali costerebbe di più indebitarsi per sostenere le loro economie. La confisca degli asset russi potrebbe rivelarsi una strategia tossica, perché c'è la dei contraccolpi che si tende a sottovalutare. Nonostante ciò, Janet Yellen sta spingendo per utilizzare il flusso di reddito dei 300 miliardi di beni sovrani russi per sostenere un prestito all'Ucraina. Questo accordo sembra ormai definito e potrebbe essere siglato dai membri del G7 nei prossimi giorni. Per cui ragazzi, prepariamoci a una guerra economica sempre più feroce. Aspettatevi nei prossimi mesi di sentir parlare sempre più spesso di confische d'ambo le parti. La Russia afferma di avere tra le mani la propria lista di Natale fatta di beni occidentali su cui mettere le mani. E se lo dice Putin, bisogna credergli, perché quel pazzo non scherza. Putin è furioso, perché vede questo come un tentativo dell'Occidente di interferire negli affari interni di Mosca. Inoltre, in gioco c'è la questione della sovranità. Questi beni appartengono alla Russia e l'idea che possano essere utilizzati per finanziare un conflitto contro di essa è vista come un'ulteriore violazione della sua sovranità. Insomma, in gioco c'è molta carne al fuoco. Sono proprio curioso di capire come finirà sta storia e chi avrà la meglio. Voi cosa ne pensate? Stiamo affondando il piede nella fossa oppure dobbiamo essere caparbi e dimostrare alla Russia che si sta cacciando in un mare di guai se continua la sua politica di annientamento. Per oggi è tutto ragazzi ci vediamo prossimamente con tanti altri video. Alla prossima!